In apertura l'intervista che ha rilasciato l'onorevole Antonio Di Pietro ai microfoni di Molise TV, prima di lasciare in Molise per tornare alla sua vita lombarda. Politica nazionale e referendum costituzionale, gli argomenti affrontati. Elevati sarebbero i costi della casta e soprattutto elevato sarebbe il numero di coloro che beneficiano di Vitalizi. Intanto in Molise continuano le vertenze, ma da 2017 pare che entrate ed uscite degli enti locali dovranno essere necessariamente in pareggio. Il consigliere provinciale Mike Matticoli interviene sulla questione relativa ai trasferimenti dei docenti e chiede l'immediato intervento della regione. 28esima edizione del Memorial di Tella, conquistato con 4 punti dall'Olimpia neonese. Secondo posto per il capobasso, al terzo i padroni di casa del vasto Girardi. Tesserato inoltre con l'Olimpia, il difensore partenopeo Erminio Rullo. Ancora ben ritrovati con l'informazione di Molise TV. In apertura oggi, lo avete sentito anche dai nostri titoli, l'intervista che ha rilasciato l'On. Antonio Di Pietro ai microfoni di Molise TV prima di lasciare il Molise per tornare alla sua vita lombarda. Politica nazionale, referendum costituzionale, gli argomenti affrontati. Il servizio. Prima di lasciare Montenero di Bisaccia per tornare in Lombardia, l'ex magistrato Antonio Di Pietro ha espresso ai microfoni di Molise TV la sua posizione in merito al referendum costituzionale del prossimo ottobre. Ecco, ci tengo a ripetirla anche qui, e non è contro Renzi, perché qui questa idea che a favore contro Renzi non c'entra niente. La Costituzione, l'hanno fatti i nostri padri con la Seconda Guerra Mondiale e deve durare dopo di me, dopo di chi ci ascolta, eccetera, eccetera. Quindi ci vuole una Costituzione che garantisca democrazia, che garantisca governabilità. Il problema è che così come è stato modificato questa Costituzione, per governare è stato previsto che chi vince prende tutto, anche se vince col 15-20% perché si fraziona tutto. E allora in democrazia, se non c'è a rappresentarci chi rappresenta la maggioranza del popolo, non si chiama democrazia, si chiama in modo totalmente diverso monarchia, teocrazia e quant'altra. In una situazione del genere è meglio che una Costituzione non venga modificata in peggio, ma venga mantenuta così com'è, perché almeno quella così com'è ci ha dato libertà e democrazia. In caso di vittoria del no secondo l'onorevole, il Premier Renzi non tornerà a casa. Io credo che succederà questo, che speriamo che vinca il no, ma nel caso appunto dovesse vincere il no, il giorno dopo Renzi andrà dal Capo dello Stato e dirà rimetto il mandato. Il Capo dello Stato, da bonde un cristiano uguale sei, dirà adesso però c'è da vedere cosa decide la Corte Costituzionale sulla legge elettorale, c'è da decidere che cosa decide l'emergenza in questo momento che lo conosceva male, insomma rimani là ancora un altro annetto, cioè fino al 2018. E questa è una vecchia storia che la conosciamo tutti. Tra l'altro il Parlamento avrebbe varato questa riforma costituzionale, ma da molti lo stesso organo è considerato abusivo. Posto che bisogna rifare una legge elettorale come si deve, posto che anche la Costituzione dovrebbe essere modificata da chi rappresenta il popolo, posto che la stessa Corte Costituzionale ci ha detto che in Parlamento ci sono eletti con una legge costituzionale, a me pare che una riforma costituzionale è meglio farlo fare da chi viene eletto legittimamente dal popolo, non da chi è abusivo. Quindi anche sul piano formale, come giustamente ha illustrato lei, a me sembra che sia un errore procedere a modificare così sostanzialmente la Costituzione. Poi, credetemi, non credetemi che vi dice abbiamo eliminato una Camera, non c'è più il Senato, il Senato ci sta lo stesso. Ci stanno un centinaia di parlamentari in meno, 200 parlamentari in meno, ma non sono i 200 stipendi in più che fanno chissà che cosa. Io avrei preferito che li eliminassero completamente il Senato, allora aveva un senso, lo eliminiamo e non c'è più. Ma se tu fai al Senato come hai fatto alle province, io stamattina sono andato a un incontro ufficiale, in cui alcuni signori che mi parlavano erano, io sono della provincia, ma io ho detto ma non eri eliminato, non si era tolta la provincia. Allora, esce dalla porta, rientra dalla finestra, a me pare che non va bene, ogni tanto mi scappa il dialetto, scusate. In conclusione, l'ex Presidente dell'Italia dei Valori ha aperto una parentesi sullo scenario politico nazionale. Guarda, io sono contrario al governo Renzi e lo sono per un motivo molto semplice, perché io credo che chi governi prima fa e poi dice quel che ha fatto. Voi provate a riflettere insieme a me, provate a sentire quanto parla Renzi, faremo, diremo, cioè sempre al futuro, ma fallo prima e poi, è una vita che ogni 15 giorni vai inaugurare la Salerno Reggio Calabria, ma finirla a fare, che non lo stai mica facendo tu, l'abbiamo ordinato noi da farlo, fallo pure a inaugurare, ma finiscila a fare prima, se ogni 15 giorni inauguro un po' non finisci più. A dire no alla riforma costituzionale è anche il Movimento 5 Stelle. A tal proposito, domani, sabato 20 agosto, il deputato Alessandro Di Battista alle ore 21 sarà a Termoli in piazza Duomo. Dopo migliaia di chilometri percorsi e dopo aver attraversato sei regioni, Di Battista ha scelto la città adriatica e il Molise per la tredicesima tappa del suo tour Costituzione Cost to Cost. L'iniziativa che spiega le ragioni del no alla riforma costituzionale del prossimo autunno direttamente in piazza e senza filtri. Ancora politica perché elevati sarebbero i costi della casta e soprattutto elevato sarebbe il numero di coloro che beneficiano di vitalizi. Intanto in Molise continuano le vertenze, ma dal 2017 pare che entrate ed uscite degli enti locali dovranno essere necessariamente in pareggio. I dettagli nel servizio. È stato pubblicato sul sito internet della Presidenza regionale l'elenco aggiornato ad agosto 2016 con i nomi degli ex consiglieri regionali che beneficiano del vitalizio. Si va dai 5.000 euro al mese di chi ha lavorato per più anni e 2.000 di chi è stato in consiglio per una sola legislatura. Il compenso si cumula con pensioni, stipendi, vitalizi erogati dal Parlamento e quant'altro. Elevati inoltre apparirebbero anche secondo i commenti postati su Facebook agli articoli pubblicati in riferimento e compensi per i dirigenti regionali. Secondo quanto diffuso dai ben informati in pole position ci sarebbe Marinella d'innocenso. Spese e costi elevati dunque quelli documentati, mentre il Molise continua a vivere con le sue vertenze che attanagliano in primis il settore della sanità ma anche quello del lavoro con aziende e filiere completamente sbandierate, numerosi cassa integrati e giovani che non vedono possibilità di crescita e futuro nella regione ma soprattutto non nutrono speranza nelle istituzioni. A tal proposito, dal 2017, entrate ed uscite degli enti locali dovranno essere documentate. Con l'approvazione delle nuove norme sul pareggio di bilancio di regioni ed enti locali vengono riscritti vincoli di finanza pubblica contenuti nella legge 243 del 2012. La riforma fissa così il conseguimento di un saldo non negativo. Il consigliere regionale Salvatore Ciocca ha reso noto che il servizio di protezione civile sta erogando in queste ore ulteriori somme destinate al ristoro di comuni e province colpiti duramente dagli eventi atmosferici del 2008. Si tratta di 5 milioni e 400 mila euro che saranno accreditate ai comuni e di ulteriori 550 mila euro destinate alle province di Campobasso e Isernia. Sono risorse che si aggiungono a quelle precedentemente erogate e che consentono l'ulteriore scorrimento delle graduatorie attinenti lavori e opere finanziabili. Cambiamo argomento. Si è conclusa a lieto fine la disavventura di un 36enne cercatore di funghi di Sant'Agata dei Goti disperso nei boschi di Boiano. Il ragazzo era partito in località Santa Maria di San Polo Matese per dedicarsi alla raccolta di funghi. Dopo diverse ore di cammino attraverso il territorio impervio dei boschi della zona si è reso conto di aver perso l'orientamento. Dopo diversi evani tentativi di ritrovare la via del ritorno ha deciso di chiedere aiuto. Fortunatamente mediante il suo telefono cellulare ha contattato il 118 il quale trattandosi di territorio montuoso e in ottemperanza le procedure operative definite in tali ambienti ha immediatamente allertato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che ha inviato una squadra di tecnici sul posto. Dopo circa due ore di ricerca il giovane raccoglitore di funghi è stato individuato e raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino in località Cerone nella zona montuosa al limitrofa a Boiano. È apparso in buone condizioni di salute anche se alquanto provato dalla disavventura. Sul posto erano presenti anche i carabinieri del comando stazione di Boiano. Questo episodio contribuisce ad accrescere una preoccupante statistica che annovera cinque soccorsi a persone disperse in ambiente montano solo nelle ultime due settimane. Tale dato dimostra che in un territorio particolarmente complesso dal punto di vista orografico ed estremamente evocato da attività turistiche e ricreative come quello della nostra regione appunto bisogna tenere alto l'allerta in particolar modo in un ambito come quello del pubblico soccorso ed in un ambiente come quello montano e impervio. Ci spostiamo adesso a Larino dove si è verificata una brutale rissa tra detenuti che ha richiesto l'immediato intervento del personale della Polizia Penitenziaria. Momenti di tensione che hanno messo a rischio la sicurezza del carcere. Tania Passarelli. Proprio ieri parlavamo del progetto musicale Liberi di Cantare promosso dall'associazione Molise Incanto che mira a diffondere la cultura musicale come mezzo di aggregazione e di sollievo dal peso della reclusione nelle case circondariali di Campobasso e Larino. Un'iniziativa che si spera aiuti detenuti nello stress giornaliero che si trovano ad affrontare nei carceri perché proprio in questi giorni si sono verificati momenti di tensione e di pericolo nel penitenziario di Larino. Molti dei detenuti hanno scatenato una brutale e violenta rissa ed una serie di atti di insubordinazione che hanno messo a rischio la sicurezza del carcere. Una situazione che ha richiesto l'intervento immediato degli agenti della Polizia Penitenziaria che seppur in pochi sono riusciti a calmare le acque e a riportare tutto alla normalità. Ora il segretario regionale del Molise del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Luigi Frangione chiede che vengano presi seri provvedimenti in merito soprattutto nei confronti di chi ha dato il via a tale situazione. I detenuti sono tanti molti dei quali violenti e sfacciati che non si fanno problemi a creare danni ad altri. Mentre scarseggia il numero del personale della Polizia Penitenziaria che in casi come questi trova difficoltà poiché in minoranza. Spiega Frangione che insieme al segretario generale Donato Capece denuncia un'errata e falimentare amministrazione dei carceri. Affinché venga fatto qualcosa di concreto per cambiare tale scenario la vigilanza nel penitenziario resta alta. L'occasione del 62esimo anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi avvenuta il 19 agosto 1954 il presidente dell'associazione ex consiglieri regionali del Molise Gaspero Di Lisa ha voluto ricordare la personalità e l'impegno umano, politico e istituzionale dello statista democristiano. La sua opera di statista è tracciata nei tratti essenziali nei discorsi tenuti alla Conferenza di Pace di Parigi e a Cleveland. Quelle non furono parole ma progetti fondamentali che portarono al successo la sua politica. Questi discorsi lasciano intravedere lo spessore e la concretezza dei suoi disegni di ricostruzione animati da autentica ispirazione di solidarietà e di promozione umana. Si vede bene quanto sia attuale il pensiero di De Gasperi nella presente stagione politica ed è raccomandabile ispirarsi a lui anche per il quesito referendario di autunno. Questo quanto espresso in una nota stampa da Di Lisa. Cambiamo decisamente argomento perché i sindaci dell'ambito territoriale e sociale di Isernia informano che dalle ore 10 del prossimo martedì 23 agosto nella piazza antistante l'ex scuola elementare Ignazio Silone di Isernia partirà una campagna di prevenzione gratuita denominata Vivi e senti il mondo. Saranno effettuati controlli gratuiti della vista dell'udito del diabete e della salute dentale. Restiamo a Isernia e torniamo a parlare della notizia dei trasferimenti dei docenti. Il consigliere provinciale di Isernia appunto Mike Matticoli interviene sull'argomento e chiede l'immediato intervento della regione ancora Tania Passarelli. Nelle scorse settimane molti docenti delle scuole molisane ricevevano la notizia che decretava il loro trasferimento in città di altre regioni per poter continuare a svolgere il loro lavoro di insegnante. Trasferimenti ingiusti e sbagliati causati da errori commessi durante le operazioni di nomina. Una problematica questa sintomo di un sistema che non funziona come previsto dal MIUR. Così interviene sulla situazione il consigliere provinciale di Isernia Matticoli. Tanti professori tra i quali anche di sostegno costretti a lasciare il proprio percorso didattico iniziato qui per ricominciarne uno nuovo lontano dal Molise quando nella nostra regione ci sono numerosi posti vacanati. Così continua il consigliere Matticoli che chiede il presidente della regione Molise Paolo Di Laura Frattura e al presidente del Consiglio Cotugno di attivarsi il prima possibile con il governo centrale e con i MIUR affinché questa situazione venga risolta. 300 figuranti e 15 attori mettono in scena anche quest'anno la rievocazione della nascita dell'antica Bovaianum un evento atteso tutto l'anno nella cittadina sannita che unisce tutta la popolazione per i festeggiamenti della primavera sacra l'appuntamento oggi a partire dalle ore 18 appunto a Boiano e sempre questa sera nella suggestiva cornice del castello di Miranda si svolge la prima edizione del Tintilia evento che punta a far conoscere una delle maggiori eccellenze vitivinicole della regione in programma per l'evento il convegno Tintilia in Molise ieri oggi domani con la partecipazione dell'ingegner Daniel Colaianni sindaco del comune di Miranda e dell'onorevole Laura Venitelli della commissione agricoltura oltre che degli esponenti del Gal Molise poi li stendono gastronomici con prodotti tipici di Miranda in compagnia del De Rose Jazz Trio apriamo adesso la nostra pagina sportiva in apertura la ventottesima edizione del Memorial di Tella ha conquistato con quattro punti dall'Olimpia agnonese secondo posto per il Campobasso al terzo i padroni di casa del Vasto Girardi il servizio è terminato il diciottesimo Memorial Filippo di Tella triangolare di calcio tra Vasto Girardi Olimpia agnonese città di Campobasso la squadra di casa guidata da mister Alberto Bernardi e quella granata guidata da Alessandro Del Grosso si sono affrontate per prime dopo un minuto di silenzio in ricordo dello stesso Filippo di Tella al quale è dedicato il torneo dopo 45 minuti di gioco la gara si conclude con un pareggio 1 a 1 targato rispettivamente Cea e Vitelli si prosegue quindi con i rigori 8 a 7 il punteggio finale a favore dei padroni di casa che realizzano il penalty decisivo con Berardi la seconda gara ha visto posta l'Olimpia agnonese al campo basso di Mister Novelli che in merito alla formazione della squadra ha dichiarato di non avere fretta stiamo cercando giocatori con determinati valori in questo secondo caso gli agnonesi in vantaggio con rete targata guida la terza ed ultima partita si è risolta col punteggio di 2 a 1 grazie alle reti di Perrille e Moulaltero per il campo basso e il momentaneo pareggio di Calcani per il vasto Girardi la classifica finale vede così l'Olimpia agnonese conquistare il titolo di Tella con 4 punti seguita dal campo basso con 3 e il vasto Girardi con 2 continuano le buone notizie per l'Olimpia agnonese perché è stato raggiunto l'accordo con il calciatore parte onopeo Erminio Rullo con le maglie di Lecce Napoli Triestina Modena Messina Rullo ha disputato 7 campionati di serie A 6 in serie B 1 in C1 e 3 in Lega Pro l'anno scorso è stato in forza al Martina Franca in serie C Rullo che può rivestire sia il ruolo di centrale difensivo che quello di esterno è a disposizione del tecnico del Grosso il quale in vista del primo turno di Coppa Italia valuta la possibilità di impegnarlo almeno per un tempo voltiamo pagina domani sabato 20 agosto alle ore 20 nella location del Pian San Leonardo a Larino si svolgerà la terza edizione della Notte Rosa dello Sport la manifestazione grazie all'impegno dell'amministrazione comunale dell'assessore allo sport Michele Palmieri dell'assessore Petriella del consigliere Mariangela Biscotti e soprattutto grazie alle associazioni sportive larinesi sarà arricchita rispetto all'edizione dello scorso anno da nuovi scenari ludici dove protagonisti saranno decine e decine di atleti un ricco programma di eventi dunque in cui troveranno posto anche riconoscimenti che saranno consegnati agli atleti di Larino che si sono distinti nelle loro rispettive discipline e specialità nel corso di quest'ultimo anno e con questo è veramente tutto grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV vi lascio al meteo e vi auguro un buon proseguimento arrivederci il meteo è offerto da da gran risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina ecologici e convenienti da gran risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente a Corso Bucci 54 a Campobasso Previsioni del tempo per sabato 20 agosto ci sono poche novità nel contesto meteorologico delle nostre regioni sudorientali sempre ben protette da un campo anticiclonico bella giornata di sole tra Puglia Basilicata e Molise salvo brevi sporadici piovaschi sui rilievi della Basilicata temperature stazionarie nei valori minimi lieve rialzioni massimi ma con caldo nella norma vediamole nel dettaglio Campobasso minima 18 massima 31 gradi Isernia minima 17 massima 29 gradi Termoli temperature comprese tra i 22 e 29 gradi il meteo è stato offerto da signora dico a lei a conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV corri a fare la spesa spendi e risparmi conviene spendi e risparmi non sono sconti ma veri e propri assegni spendibili con noi la famiglia raddoppia gli acquisti dai un calcio alle rinunce quotidiane spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere e la famiglia e la famiglia e la famiglia per la famiglia è dove la famiglia e la famiglia eduto